ho distrutto ho distrutto la liana va bene signori non fa niente bella tutti signori e benvenuti in questo nuovo video sono maullo 941 e oggi siamo sul nuovo episodio numero 89 di questa serie di minecraft signori allora prima di divertire il video vi ringrazio per i like per i commenti per i suoi studenti e per il supporto che date a serie e al canale vi ricordo di iscrivervi perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno e io ce lo sto mettendo tutta signori siamo all'appuntamento numero 89 da 89 giorni che escono episodi su questa serie qualcuno più carino qualcuno più brutto però siamo costanti signori e tutto quindi dipende da voi signori dipende da voi bastano semplicemente un semplice clic nel pulsantino per iniziare a seguire il canale e anche un pulsantino sul sul like fa sempre piacere e se c'è da voglia anche un commentino che non dispiace mai che non dispiace mai signori cosa facciamo allora nel video di domani andremo ad uccidere il drago ebbene sì ebbene sì oggi prepariamo tutto l'ambaradan per questa impresa e poi andremo ad attivare il portale signori sì sì faremo tutte cose oggi allora step numero uno andare a capire un attimino come siamo combinati allora cosa ci servirà intanto quale ho recuperato del degli alberelli quindi andiamo a piantarli questo non c'entra niente con l'avventura del del di domani del drago però è un lavoro che va fatto ebbene sì e qualcuno è uno sporco lavoro che qualcuno deve fare e va fatto allora signori noi abbiamo un'armatura che è abbastanza abbastanza buona diciamo che ci può abbastanza proteggere le armi che sono devastanti diciamo che non sono magari il massimo però secondo me vanno vanno abbastanza bene abbiamo delle frecce e andrò a forse qua dovremmo averci un altro stack ce l'abbiamo un altro stacchettino che ci da sicurezza sì ma voglia abbiamo un altro stacchettino ce ne portiamo tre stack completi che non è per niente male signori perché purtroppo nell'arco non abbiamo infinità quindi diciamo che tre stack ci vanno di russo ci hanno di russo e poi abbiamo le mele d'oro 8 mele d'oro che ci andiamo a portare le carote ce le andiamo a portare pure signori allora andiamo a prendere qualche carotina d'oro che può sempre far più comodo si può dire può sempre far più comodo non lo so se si può dire però non lo diciamo non ci creiamo il problema e magari altre quante le quante ne avevamo non le prese le carote d'oro ma so scemo facciamo le altre 4 no 4 dai 4 dovrebbero bastarci 4 più quelle che abbiamo nel nell'inventario purtroppo abbiamo poco oro quindi non possiamo fare fare tantissime tantissime cose 5 ce le abbiamo facciamo le altre facciamo le altre se non ricordo male si fanno con i nugget se non se non se la memoria non mi inganna se non mi inganna si dovrebbero fare con i nugget se potrà farne più di 4 potrà fare 8 va bene ma io dico penso che un totale di 9 ci bastano 9 effettivamente fa un po cagare come numero meglio 10 signori meglio avere numeri pari e di mele quando abbiamo 8 si effettivamente numeri pari senza ombra di dubbio numeri pari non mi prende un'altra carotina che ce la portiamo pure e siamo tutti contenti e sereni andiamo qui purtroppo dopo scoperto che il pappagallo dobbiamo tenerlo fermo signori perché giustamente se lo lascio svolazzare libero nella nella sua gabbietta e se ne va ci segue e quindi giustamente automaticamente si teletrasporta ed esce dalla gabbietta e questa cosa non va bene perché deve stare lì dentro chiuso chiuso allora abbiamo le carote d'oro abbiamo le mele d'oro abbiamo poca terra quindi recuperiamo un poco di terra così al volo giusto per distruggere un poco qui l'ecosistema vicino casa nostra perché dovremmo scavare per si dovremmo scavare dovremmo creare delle risalite per andare dove ci sono le torri quindi ci servono un po po di blocchi è vero abbiamo tanta nederrack potremmo portarci anche quella ce la porteremo perché non bisogna mai disdegnare niente signori ci portiamo uno stack di terra e uno stack anche di nederrack che anche quella non è non è non è proprio l'ultima delle delle cose importanti 50 arriviamo proprio a uno stack pulito pulito allora 58 59 60 61 62 63 e 64 perfetto abbiamo uno stack di terra pronto no te non ti voglio perché ho detto che devo portarmi uno stack è uno stack abbiamo poi ci facciamo anche direi tre pozioni tre pozioni giusto sto facendo tre porzioni no tre pozioni di di cura che quelle mo ci servono ora devo solo ricordarmi un attino come cazzo la se fanno allora tra l'altro se non sbaglio abbiamo solamente tre bichi tre tre boccette tre boccette qui perché l'altro utilizzare tutte per il miele se non ricordo male non è vero non ho altre altre boccette di vetro boccette di vetro no 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 ce l'ho ce l'ho allora se non ricordo male dobbiamo prima mettere questa dobbiamo prenderci uno due le i qua i si peperoni e langurie dorate e e l'aluminite e l'aluminite per renderle più forti ok fatto questo noi dobbiamo che cazzo allora è successo perché mi ha messo la torcia mi devi mi devi aprire questo no ed aprimi sto coso ma stiamo scherzando che mi sta mettendo le torce leva le torce alimentari per cortesia grazie ti ringrazio mi apri questo ce l'abbiamo fatta allora per prima cosa dovremmo mettere la blaze road trasformate in polvere di braids polvere di braids qui ok detto questo dobbiamo mettere uno di questi di qua ora lui piano piano cuoce fa blu 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 e dovremmo ottenere le nostre bellissime il nostro la nostra base del dell'infuso quante ce ne vogliamo portare tre ci bastano signori tre non lo so perché non abbiamo un grosso problema ovvero nessun effetto ovvero che noi giochiamo con quattro cianca signori quasi con quattro cianca di profondità quindi noi il drago non lo vedremo mai lo sentiremo solo arrivare e non è una cosa bellissima devo prendere pure la come si chiama quella questa la polvere da sparo così lo facciamo le facciamo da lancio no no perché dobbiamo farle da lancio ma le faccio che le bevo e siamo tutti più contenti allora questo è diventato saluti istantanea perfetto ora se io ci metto la luminite lui dovrebbe diventare mi saluti istantanea 2.0 è già questa cosa non mi piace tanto sono tre ce ne facciamo altre tre tanto secondo me moriremo comunque almeno una volta moriremo sicuro perché qualche bastardo enderman lo guarderemo sicuramente in faccia signori quindi perfetto saluti istantanea 2 o abbiamo anche ottenuto il come il l'achievement l'achievement abbiamo fatto signori allora qua ce ne metti uno di questi e prendiamo altre tre boccettine d'acqua e si ne facciamo intanto ne facciamo altre tre signori poi se ce ne vogliamo portare tutte e tre questo lo vediamo poi successivamente tanto dai e così lavora e portiamoci a casa queste queste boccettine di salute istantanea la carne ne abbiamo 57 penso ci bastano con le carote d'oro e le mele d'oro siamo abbastanza coperti quindi direi che che va bene che va bene e dai col melone dai col melone e basta signori penso che abbiamo tutto bisogna solo trasformare le ultime gli ultime gli ultime ender perle negli occhi del 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 drago e dovremmo avere tutto dovremmo essere pronti per la spedizione dai e così ok questi possiamo posare tutte cose signori queste ce ne servono 246 ok ok quindi possiamo posare possiamo posare i meloni possiamo posare qui la questa e questa le mettiamo qui tanto non cambia nulla non cambia assolutamente nulla le fatte perfetto salute istantanea 2 ok andiamo a trasformare gli ultimi occhi in in occhi del drago vieni qua ce li abbiamo qua dentro sono sette ce ne servono sei trasformiamo queste in toto la vita facciamo così facciamo così occhio del land ne abbiamo nostre otto occhi il nostro sei occhi del land dormiamo signori miei ci siamo ci siamo il momento è giunto siamo carichi a pallettoni allora io direi una salute istantanea qua ci sta qui più che la ca più che l'acqua intanto ci metterei le frecce posso mettere qua c'è una bella mela d'oro così non si può mai sapere nella vita e siamo tutti tranquilli l'acqua effettivamente mi potrebbe stare comoda per lanciarmi o per difendermi da qualche enderman quindi facciamo così queste facciamo così penso che abbiamo tutto signori un'olto ucciso il drago recupereremo l'esperienza l'uovo lo recuperiamo tramite la torcia che cazzo ci faceva un enderman qua vi ho cercato per tutta la vita per anni 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 io ora mi spunto un enderman qua sopra ma è una presa per il culo dove sei andato dove sei bastardo fuori programma del video niente no è sparito niente è venuto a fare solamente un salto a prenderci in giro sì decisamente sì decisamente sì signori abbiamo tutto facciamo la speriamo bene signori auguriamoci il bene per noi sicuramente moriremo 80 mila volte ma non è un problema lo mettiamo in conto lo mettiamo in conto allora faccio un taglio signori anche perché la strada qui nel nether non ce l'ho segnata quindi non mi sono dimenticato a portarmi qualcosa di oro per i pigmen cosa è quella cosa un gatto il gatto abbiamo il gatto nel nether no è vero me l'errore completamente dimenticato e tu mi rimarrai qui purtroppo mi dispiace per te ma rimarrai lì quindi signori faccio un breve taglio ci vediamo quando sono dall'altro lato nella nella fortezza praticamente no che signori dopo un estenuante ricerca ho trovato la strada del mio portale che però dobbiamo un attimo mettere tutto in sicurezza che giusto non voglio cascare giusto ora che siamo arrivati sarebbe proprio il fail più totale quindi chiudiamo tutto alla fine non ho preso la netherrack che ci serviva anzi la sto consumando del tutto ma no dai ce l'abbiamo 64 blocchi precisi abbiamo e signori andiamo senza indugio senza indugio e senza paura la strada più o meno più o meno è segnata più o meno è segnata e però 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 va bene però va bene il nostro portale dovrebbe essere di dove cazzo l'è il nostro portale ho girato troppo velocemente infatti ci siamo ci siamo signori datemi le mie bellissime perle e facciamo allora partiamo da quella più lontana 1 2 3 4 5 signori portale acceso domani vi aspetto qui sul canale e andremo ad uccidere il drago signori vi aspetto mi raccomando non mancate signori impresa storica bisogna una 90 andiamoci del drago e dove signori io vi ringrazio grato questo video ringrazio per i commenti per la gente più supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento bella raga ciao